Quanti anni ha questo piosco? 1947, così, quant'anni ora? Io avevo quasi un 31 anno, 21 anni, 22 anni è una tradizione prettamente catanese che però si sta allattando anche al nord quello più venduto sembra in tutti i costi il sesso è limone e sale che sarebbe acqua fizzante con limone e sale ce la fa vedere adesso Ombriati, europei, quando gioca l'Italia, quando gioca il Catania siete sempre qua Adesso ci sono gli europei, come farà? Eh, con gli europei facciamo il turno, ce li vediamo In realtà chi invece è questo Ballotelli, questo Cassano? Ballotelli è fortissimo, solo che un pochino ha la testa un pochettino da ragazzino per me, perché io ho giocato al calcio pure mi sembra un po' spreduto tutti e due Per me Ballotelli farà un grosso europeo Cassano è forte pure, però avrei preferito Se sarebbe portato un altro attaccante tipo Matri o Pagliarella Un attaccante come viene? Allora sì, non è questo, non lo abbiamo un attaccante oggi come qui La limone e sale è una bibita tradizionale nostra, che io la chiamo il Gatorade siciliano Cioè per uno sportivo, è una bibita che non se ne può fare meglio Io la vedo bene l'Italia, anche se ha qualche infortunato Io mi aspetto qualcosa di buono, non so, ma la fiducia c'è sempre Se aspettiamo tutto un qualcosa di buono, che cosa farà l'Italia? Io sono convinto che andremo in finale e vinceremo